Don Valentino, perché è venuto qui a Crodon? Sono amico del Vescovo, già altre volte sono stato qua, ho fatto incontri con i sacerdoti facendo il loro esercizio spirituale, quindi è una familiarità con la zona da lungo tempo. E poi la cosa che più mi piace, oltre che andare nelle parroche e tenere conferenze, faccio incontri con i ragazzi. Ecco, ho terminato adesso un incontro con gli studenti dell'Istituto Benedetto XVI. E' stata per me una bellissima sorpresa, perché ho dialogato con loro cercando di capire, il tema era contro i mali del mondo, Dio ha fatto te. Ho parlato un po' dalle mie esperienze, come sta andando il mondo in Africa, in Asia, in confronto con... E ho visto con grande gioia che questi ragazzi hanno dei valori. Se mi domanda quali, chi le dirò? Ma per il momento io dico hanno dei valori e questo già mi allarga il cuore. Certo, e pensare che i giovani hanno dei valori è sicuramente un seme di speranza. Speranza, però, contemporaneamente c'è stata anche un'accusa nei confronti dei genitori. Perché quando io ho detto, ho visto il mondo, ho visto 36 paesi in Africa, 12 in Asia, un po' dell'America Latina, e di fronte alla domanda qual è stato il paese dove è stato peggio, io ho detto il Giappone. E perché il Giappone? In Giappone ci sono tantissimi soldi, con quello che un ragazzo giapponese spende in un giorno, io do da mangiare un anno a una bambina dalla costa d'Avorio, perché con 20 centesimi una bambina in costa d'Avorio è da me mantenuta. Ecco, la differenza è questa. In Giappone ci sono tanti soldi, ma non ci sono valori. E ci sono 80 suicidi ogni giorno. In Africa, dopo 48 anni che sono in Africa, non ho mai sentito una sola volta che una persona si sia ammazzata. Sono poveri, a volte miserabili, ma hanno la ricchezza della fede. Per cui ecco il passaggio che loro stessi hanno fatto i ragazzi. Di fronte al foglio che ho letto, glielo darò dopo, c'è il per te stesso, di fronte al fatto che io ho scritto può darsi che i tuoi genitori ti abbiano voluto bene, ma non hanno potuto, lascia perdere, e qualcuno ha detto, eh sì, i nostri genitori hanno fatto degli sbagli. Ha detto, domando a voi, non voglio essere io a imporre. E quali sono gli sbagli che hanno fatto i vostri genitori? Non ci hanno dato i valori, ci hanno dato delle cose materiali. Non so se questo è dovuto al fatto che questa è una scuola cattolica e quindi hanno già questa propensione. Però mi ha sorpreso positivamente il fatto che abbiano capito che i genitori loro sono a volte vittime dei loro nonni di questi ragazzi, no? Che finita la guerra hanno dato cose materiali ai figli e sempre meno cose spirituali. I risultati si vedono. Diciamo anche che oggi i genitori sono più adolescenti dei propri figli, anche per l'utilizzo dei social. Infatti. Manca una formazione. Io continuo a insistere ovunque. Occorrerebbe una formazione permanente. Al clero, al clero innanzitutto, formare sistematicamente i preti in modo tale che siano capaci di formare dei laici che abbiano dei valori. Perché se i valori non vengono scoperti dalla famiglia, cosa possiamo fare noi preti? Noi non raggiungiamo le persone perché innanzitutto non vengono a Messa. Ecco, ieri ero a Ciro, con gioia, ho visto le chiese ancora abbastanza piene di persone tutte anziane. A me interessavano comunicare i giovani. Con i ragazzi di Ciro ho parlato prima della Messa. Sono venuto all'incontro, non sono venuto alla Messa. Ora, il fatto di non partecipare all'Eucaristia mi crea problemi. Perché io penso al futuro. Se non hanno Dio questi ragazzi, cosa sarà? Perché con Dio il mondo rimane mistero. Senza Dio è assurdo. Tra il mistero e l'assurdo, io ho scelto il mistero. Perché questo mi allarga gli orizzonti, rende la mia vita degna di essere vissuta. Ma mi domando, e gli altri? E chi non ha Dio? Nei prossimi giorni sarà qui alla chiesa di Santa Rita, incontrerà i giovani? Anche in questi giorni, nelle scuole, nelle varie scuole sono stato invitato e con gioia andrò a parlare anche dei diritti umani. mi hanno chiesto questo argomento. Vi dirò il diritto alla felicità per voi giovani. Una felicità che si trova sapendo chi siete, che valori avete. Il diritto a vivere una vita dignitosa e bella, senz'altro. Però devo ricordarvi anche dei diritti dei bambini in giro per il mondo che vogliono di fame. I diritti di quelli che sono meno fortunati di voi. E anche a loro, anche a loro. Dirò la stessa cosa, no? Sappi che il mondo adesso è nelle tue mani. E se tu fai qualche cosa, non domandarti dove era Dio a Auschwitz, dove era Dio a Dachau, dove è Dio quando capitano cose brutte. Io non dico dove era Dio. Dico dove è l'uomo? Tu che cosa fai? Prenditi le tue responsabilità. Scopri la tua bellezza che è splendore di verità e buttati nella vita facendo del bene. Questi incontri con i giovani producono l'effetto di spingerli alla curiosità di conoscere chi è Dio? Ma io sono convintissimo che c'è una grande nostalgia di Dio ovunque. Ho visto anche nell'America del Nord, stranamente in Canada per esempio, era una scuola anglofona e francofona, facevo discussioni. Dopo tre ore che parlavo, i giovani non volevano andare via, i ragazzi non volevano andare via. Ho detto, ma io vorrei pregare adesso, ho parlato di Dio, vorrei parlare a Dio. Trecento su trecento sono venuti in chiesa. E questo mi ha allargato il cuore e dalle domande capisco che c'è una nostalgia di Dio. E quindi sbagliano quei genitori che non parlano di Dio. Sbagliano quei genitori che neppure fanno il scendio della croce prima di mangiare. Sbagliano quei genitori che non parlano del Vangelo. Sbagliano al grosso, perché i figli hanno sete. E poi vengono a dire a me, vengono a dire a me, papà non vale niente. Mi dispiace per il mio papà, gli voglio bene perché è mio padre, però fa troppi errori. Lei è un missionario ormai da tanti anni, da quello che ho capito. La sua attenzione in particolar modo verso i paesi poveri, dell'altra parte del Mediterraneo. Mi riferisco all'Africa in particolar modo. Dunque, gli ultimi dodici anni sono incaricato dalla Santa Sede per formare, aggiornare i formatori del clero. E questo mi obbliga ad andare in Africa e in Asia. Ho visto 36 paesi appunto dall'Africa. E questo è estremamente stimolante. Da qui nascono anche i vari libri che ho potuto fare, perché quando tu vai in un paese, studi la lingua, fai qualche intervista, facilmente poi si è stimolati a produrre il meglio di se stesso. Io sono poi convinto che una persona vive tante vite, quante lingue parla, quanti sono i paesi che vedi, ma non vederli da turista. Bisogna interarci, capire l'animo umano e allora veramente è bello, è bello condividere dei valori. Ecco, di fronte ai ragazzi che mi hanno chiesto, ma perché lei è qui oggi? Bella la domanda, ma perché è qui oggi? Perché io ho bisogno di voi. Cioè, la mia formazione è tale per cui io mi sento un mendicante d'amore. Vado in giro cercando amore, cercando di donare amore, ma anche condividendo la fede che Dio mi ha dato. Fede messa in crisi più volte, ne ho parlato in tanti miei libri. Una fede che è maturata al cimitero dopo la morte di mia sorella Elisa, a 26 anni. Io ho perso la fede, ma al cimitero l'ho ritrovata al punto tale da diventare prete. Ecco, e di fronte alla domanda, ma perché sei qui? Dei vostri ragazzi adesso, perché sei qui? Perché mi interessa comunicare, mi interessa far circolare quei doni che Dio mi ha dato, non per merito mio. Quello che sono lo devo agli altri, ai genitori, papà e mamma, a quelli che ho incontrato. Ed è estremamente stimolante stare con i giovani, cercando di non dare nulla per scontato. Infatti nella conferenza che ho appena fatto, facevo delle affermazioni e poi mi fermavo, dicevo, cosa vuol dire questo? Cioè farli interagire, altrimenti se stanno lì passivi non prendono niente. Se tu usi il metodo maieutico, fai partorire a loro la verità che è in loro, allora la cosa diventa bella, interessante per me e interessante per loro. Ecco, nei paesi come l'Africa, l'Asia, noi parliamo di paesi dove c'è una grande povertà, quale può essere il suo impegno e soprattutto riesce con questi suoi incontri con i giovani a metterli nelle condizioni di capire che c'è bisogno di solidarietà e d'amore per questa gente che vive in uno stato di, diciamo, di disagio completo? Beh, il mio compito fondamentale, più che i giovani in Africa e in Asia, adesso sono i preti e quelli che formano i preti e quindi è per me bellissimo l'idea che sia per gli studi che ho fatto sia per il mondo che ho visto, sono riuscito a creare il gusto di diventare liberi. Tant'è vero che l'affermazione più comune che mi sento dire dei preti è proprio questa, no? Hai portato un'aria fresca, mi hai portato quella libertà, quella verità che fa liberi. Ecco, è questo che io voglio, no? Cristo, col suo amore, mi ha reso libero dalla legge, dal peccato, del condizionamento, dei soldi, dagli liberi. Sono libero? Bene, devo diventare un liberatore. E niente di più bello che guardare una persona negli occhi e vedere quando la faccia si illumina perché ha capito alcuni valori. Io parlavo dei giovani che sta incontrando, che incontra un po' dappertutto perché so che lei, ecco, nelle nuove chiese incontra i seminaristi quindi è chiaro che c'è questa crescita di fede cristiana dall'altra parte del Mediterraneo? Crescita. Quello che vado dicendo un po' dappertutto è questo. In Africa abbiamo il problema della povertà, della miseria e dodici bambini ogni minuto muoiono di fame e questa è una cosa che noi dobbiamo tenere presente. In un minuto noi occidentali spendiamo un milione e mezzo di euro per costruire le bombe e le bombe servono per ammazzare. Ecco, in un minuto un milione e mezzo di euro, in un minuto dodici bambini muoiono di fame. Di fronte a questa situazione io dico, vedete amici, gli africani sono poveri e a volte miserabili dal punto di vista economico ma hanno una marcia in più che ha la fede. Cioè, quelli che sopravvivono sono capaci di danzare la vita mentre qui da noi troppi giovani sono tristi, sono piegati sulla loro tristezza perché, poveretti, quando sabato scorso ero qua sono andato vicino al vostro castello, Carlo V, se non mi sbaglio, no? Ecco, sono rimasto, era quasi mezzogiorno, una ventina di ragazzi, un gruppetto che stava drogandosi mamma mia, mi si è chiuso il cuore, ma poveretti, hanno tutto, ma mancano di tutto stanno marinando la scuola, sono solidali nel male, la droga non sono capaci di comunicare, ridono, 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 parlano, parlano, parlano vuoto interiore totale. Ecco, per questo io dico è importante che chi ha fatto esperienze all'estero venga in Italia ancora e dice ragazzi, il mondo è nelle vostre mani, non buttatevi via. Lei ha parlato dei valori e dobbiamo dire che l'Italia in questo momento è nel caos perché i valori non sono più quelli di una volta le famiglie si separano, i giovani fanno uso di droga c'è un mondo che chiaramente forse ha bisogno di essere aiutato e la sua testimonianza può essere importante per dire ai giovani come lei ha ben detto, rivedete un po' la vostra vita scrivete la vostra vita oggi, non aspettate di arrivare a punti di non ritorno per poi essere vittime di voi stessi quello che dicevo ieri alle messe, ho fatto le tre messe più le messe vespertina il sabato sera quindi quattro messe, ho visto un po' di gente ho detto, al nord adesso c'è questo disastro delle famiglie una dopo l'altra che si separano però mentre stavo dicendo questo, quattro o cinque persone contemporaneamente, ma anche qui, anche qui, anche qui mi hanno detto, guarda che anche qui sta andando male e ho detto, vabbè allora, parliamone e qual è uno dei motivi? non si prega più non si prega più in famiglia non si legge più la parola di Dio per cui io suggerivo uno dei miei libri fatto apposto e sono contento e sono andati più di centomila copie uno di noi è Dio che per un libro scritto da un prete centomila copie è proprio un best seller assoluto ma perché è andato? me l'aveva già lanciato il Cardinal Martini dicendo, una pagina al giorno c'è un po' di parola del Signore un piccolo commento, una preghiera e dico, cinque minuti al giorno portate Cristo in famiglia il figlio, il nipote dice nonna, nonno, ma io non credo in Cristo che sia figlio di Dio fa niente, guarda era un galantuomo se tu lo conosci se tu conosci il suo pensiero non hai niente da perdere quello che diceva Gandhi è l'uomo più grande della storia lui Gandhi, poveretto non riusciva a capire che fosse figlio di Dio ma diceva è il dono più bello che Dio ha fatto all'umanità conoscere la parola allora le tre cose che dice il povero Papa Francesco dico povero perché molti lo stimano ma non lo seguono il signo della croce prima di mangiare un padre nostro, marito e moglie una pagina del Vangelo il signo della croce ecco ai ragazzi ieri domandavo sabato domandavo ragazzi ma sapete quanti muoiono di fame e voi quante volte mangiate al giorno? due dicono conta meglio che sono sei volte in Africa si mangia un giorno sì un giorno no volete fare il signo della croce prima di mangiare? Signore sono un fortunato grazie il signo della croce un padre nostro, marito e moglie avete litigato ma non andate a rompere l'anima al prete e dire ho litigato con la mia moglie e il mio marito ma dagli un bacio e piantala sto citando il Papa dà un bacio al tuo marito e alla tua moglie e vi mettete ma andate a dire al prete che posto ha Dio nella vostra vita andate a dire al prete che cosa state facendo per chi muore di fame sono questi i grandi temi che andrebbero toccati è una pagina del Vangelo una pagina del Vangelo la parola di Dio che ha il potere di ribaltare la mia esistenza la parola di Dio che spada doppio taglio che mi purifica la parola di Dio che mi libera parliamo dei suoi libri quanti libri ha scritto? e tanti più di 120 e tradotti anche in tante lingue e questo quando appunto i ragazzi mi domandano come fa a scrivere tanti libri ho detto vabbè ho la grazia di dormire poco e questo è già qualche cosa di notte scrivo ma più che bravura è tenermi allenato io ho 73 anni 74 sono 45 quest'anno sono 74 io studio sempre 7 8 12 ore al giorno ma è questo che mi rende fecondo e poi parlare in altre lingue io penso che molte persone hanno l'alteriosclerosi galoppante perché non studiano non leggono vedono la televisione mi dispiace la televisione può fare anche del bene ma ci sono certe televisioni talmente spazzature che per carità ecco allora stare aggiornati leggere avere il gusto sviluppare il senso della meraviglia ecco io sono amante di Chesterton quel proietta inglese che dice il mondo non terminerà per mancanza di cose meravigliose il mondo terminerà per mancanza del senso della meraviglia se noi smettiamo di meravigliarsi il mondo è già morto il mondo è finito e quindi dico alla gente ama te stesso pregando leggendo studiando confrontandoti allora la vita diventa bella qual è il libro che ha venduto di più? è quello teobiografico non si muore si nasce due volte è la mia esperienza io ho avuto una famiglia molto bella grazie a Dio la crisi 17 anni di fronte ai mali del mondo la crisi grossissima 23 anni quando ha morto mia sorella in conseguenza del parto del suo secondo figlio però ripeto al cibitero è un'esperienza bellissima bellissima per cui ho deciso finalmente adesso mi faccio prete divento missionario voglio stare in Africa per vivere la mia vita e la vita di Elisa ecco questo libro autobiografico non si muore si nasce due volte è stato valorizzato anche solo per quella frase che poi l'hanno messo anche nella quarta di copertina una tomba è troppo piccola per contenere il mio amore risorgerò se io mi carico di Dio se io mi carico d'amore se io sono pieno d'amore la tomba non mi può contenere esploderà è come quello che è capitato con la risurrezione perché Cristo ha riuscitato il suo amore ha buttato via la pietà sepolcrale quello che dico di me lo dicono di tutti una tomba è troppo piccola per contenere il mio amore ama e capirai ama e risorgerai lei sta dicendo delle cose veramente interessanti che fanno riflettere e io penso ad esempio a tutte quelle famiglie che hanno perso un figlio come lei ha perso sua sorella la sua famiglia ha perso una figlia in momenti in cui poi si va in crisi e si dice perché è morto mio figlio perché ho dovuto subire questo forte dolore ecco che cosa si può dire a queste persone ho scritto un libro anche su questo l'ho intitolato Imparò dal dolore soggetto sottinteso Cristo Cristo è imparato dal dolore e cerco di rispondere alle domande più frequenti che mi sono state poste nel complesso della mia vita cominciando dal 73 mi trovavo a Mosca vicino al Cremlino e un giovane mi ha invitato di nascosto ad avere un incontro con alcuni suoi amici quando ho saputo che insegnavo filosofia e io ho parlato della mia esperienza di fede come ho perso la fede come l'ho ritrovata eccetera ho parlato della bellezza di essere un credente a un certo punto io vedo che un ragazzo piange what is wrong cos'è che non funziona ti ho ferito c'è qualcosa che non va padre lei parla molto bene ma guarda che basta una lacrima di un bambino innocente per dimostrare che il suo Dio non esiste tra lì poi è nato un lunghissimo discorso lascia stare Dio non c'entra Dio con i mari del mondo impegnati tu eccetera ecco questo libro imparò dal dolore l'ho fatto proprio con questo scopo per rispondere alle domande più importanti che una persona si pone e quando invece poi passando dal libro alla pratica di fronte al dolore ecco ieri sera padre Thomas mi ha portato a dare la benedizione a un signore anziano che è morto a me interessa stare in contatto con la morte pensando alla morte si vive e ho detto due parole ai familiari innanzitutto a me è piaciuta l'idea che c'era una partecipazione corale del paese di fronte al lutto ho detto d'ora in poi di vostro morto non cercatelo al cimitero cercatelo attorno all'altare i nostri morti sono lì attorno all'altare e dicevo una delle cose più belle che mi capita dopo la consacrazione ecco le mie messe sono lunghe infatti me l'ha notato è bravo ma è lungo la gente non ama molto e io rispondo guardate in Africa le messe sono minimo tre ore io vi faccio ve ne faccio risparmiare due però almeno un'ora lasciatemi celebrare ecco una parte bella quando io dopo il canone allargo le braccia dopo aver consacrato io abbraccio quel Cristo che ho appena consacrato abbraccio la gente che c'è in chiesa abbraccio i miei morti i morti non sono al cimitero sono lì accanto a noi e ci tengono in piedi grazie a tutti